Ti spiego velocissimamente un metodo infallibile che ti porterà a manifestare denaro nel più breve tempo possibile, quindi stai molto attento in questo video. Questo metodo non solo ha aiutato me, ma ha aiutato anche 450 studenti della mia Accademia della Legge di Attrazione. Metodo semplicissimo perché si basa sulla focalizzazione, quindi non ti servirà altro che ripetere esattamente quello che ti sto per dire. Innanzitutto scrivi nei commenti, sono un magnete del denaro. Come ormai dovresti sapere se mi segui da un po', il fatto di scrivere nei commenti la tua intenzione non solo che aiuterà a sancire quello che è il tuo obiettivo finale, ma soprattutto ti permetterà di unirti all'energia della community che, proprio per la legge di attrazione, andrà ad amplificare le vibrazioni del tuo intento, rendendolo sempre più possibile. Il metodo è semplicissimo ed è questo. Ogni volta che vedi in giro intorno a te qualcosa di rosso, dovrai ripetere la frase che hai scritto nei commenti, ovvero sono un magnete del denaro. In questo modo ti abituerai a focalizzarti sul denaro e non ti sarà difficile individuare immediatamente tutte le opportunità per poterlo fare, guadagnare o comunque attirare nella tua vita. Quindi non esitare, se vuoi salvati il video in modo tale che non ti dimenticherai mai questo metodo e soprattutto ricordati che per l'universo ogni nostro desiderio è un ordine. Basta imparare a chiederlo nel modo corretto. Per questa e tante altre tips gratuite ci vediamo su tutti i miei social. Ogni giorno pubblico contenuti diversi riguardo la legge di attrazione e la crescita personale.